Buonasera, buonasera. Iniziamo la conferenza stampa di Didier Deschamps. Nome, cognome e che media? E fate la domanda. Buonasera, Le Figaro. Al di là dei 15-20 primi buoni minuti abbiamo visto una nazionale francese debole stasera. Cosa ti ha dato più fastidio da parte dei tuoi giocatori? Ma abbiamo avuto un ottimo inizio ovviamente con il gol, una buona pressione sull'avversario e poi le cose sono diventate un po' più complicate perché anche se è difficile mantenere questa intensità durante tutta una partita, ovviamente quando ci sono dei gol ci sono anche errori, ma non siamo stati in grado da un punto di vista atletico di mantenere questo, anche con errori tecnici. Abbiamo iniziato già nella seconda parte del primo tempo a perdere sfide individuali, a perdere palle. Siamo ripartiti con buoni propositi, però l'Italia segna rapidamente e loro hanno questo blocco basso. Noi avendo giocatori offensivi alti e un blocco poco compatto, ovviamente questo ha facilitato, ha dato più spazio ai giocatori italiani, anche se io sapevo che eravamo lungi dall'essere atleticamente al top della nostra forma per vari motivi, ma comunque sì, sono gli sforzi, ma non siamo stati in grado di fare gli sforzi in entrambi i sensi, è questo che ha fatto la differenza oggi. Buonasera RTL, c'erano varie cose diverse rispetto agli europei nella costruzione della squadra o nel modulo, nell'animazione. I giocatori? Sì, e anche due centrocampisti con difensivi, avevamo visto che era un settore che aveva sofferto molto e che non aveva trovato le soluzioni per quasi 70 minuti, direi. Questo è dovuto a delle defaianze individuali che si sono sommate le une alle altre, oppure la fa riflettere in senso più lato sullo schema e eventualmente la possibilità di ripeterlo in futuro. Allora, entrambe direi, c'erano quattro giocatori offensivi che hanno fatto ottime cose, ovviamente non durante tutta la partita, anche se ci sono state delle occasioni e delle situazioni create. Poi è una questione di equilibrio, squilibrio. Sa bene che la squadra è giovane, è diventata ancora più giovane, alcuni hanno fatto il proprio debutto oggi proprio, quindi so che non mettendo in campo la squadra che avrebbe potuto avere lo status, tra virgolette, di titolari, sono stato obbligato di ripartire. Quindi questo ha leso alla performance collettiva, perché tra tre giorni forse avremo avversari altrettanto forti e forse di più. Quindi oggi ho ricevuto la conferma che non possiamo mantenere gli sforzi costanti durante tutta una partita e ci sono due partite in tre giorni. Poi sì, due centrocampisti, è vero quello che dice, c'è anche molto spazio, però dipendono dai giocatori davanti, soprattutto se non abbiamo la palla, ci sono stati anche errori tecnici, anche su alcuni recuperi di palla, poi l'abbiamo ripersa e poi sì, c'è la performance individuale, ma io analizzo le cose più che altro a livello collettivo. e lì sì, eravamo di fronte a un avversario che è passato in vantaggio 2-1 e poi ovviamente ha preso disposizioni difensive, chiudevano a 2 o a 3 e noi lasciavamo spazio dietro le nostre spalle. Buonasera. Allora, agli europei la sconfitta era stata una soddisfazione, nel senso che avevamo concesso poche occasioni, poche gole, questa sera no, ma la difesa è cambiata, è quello che ho appena detto, se scelgo la tranquillità allora metto 4 e poi però l'ho già detto, io considero che sia arrivato il momento di dare tempo di gioco al maggior numero di giocatori possibili con queste due partite ravvicinate. Ovviamente a livello di automatismi i quattro giocatori che hanno giocato durante tutti gli europei hanno dei punti di riferimento e questo contrasta questa cosa, ma considero nonostante tutto che sia giunto il momento di farlo e di fronte a avversari di alto livello l'abbiamo pagato caro stasera, ma è la mia responsabilità e l'ho detto, l'ho fatto e non per questo in occasione della prossima partita, malgrado il risultato di stasera, io cambierò la mia visione delle cose perché penso che innanzitutto per i giocatori e anche perché era il momento di farlo. E cosa non ha funzionato in questa difesa? No, non è solo la difesa, è anche il posizionamento, anche se l'Italia, ovviamente i giocatori hanno utilizzato bene le fasce, questo ci ha creato alcune difficoltà. ma non sono, siamo, non possiamo considerare solo i quattro difensori e il portiere, c'è anche ciò che succede davanti a loro e che porta solidità. Oggi spingendo in avanti ci siamo ritrovati con più spazio, meno compattezza e quindi sempre più difficile difendere. Buonasera, Le Parisien. Quando lei vince, dice non siamo i migliori del mondo e quando perde non siamo i peggiori. Allora, quali sono le ragioni che la spingono a sperare stasera? Ah, direi che sicuramente fa male questa sconfitta e fa male a tutti, ovviamente. guardo sempre i fatti, indipendentemente dalle circostanze, direi complimenti all'Italia che ha saputo fare ciò che andava fatto per vincere. Noi abbiamo avuto delle lacune, è una constatazione. non serve tergiversare, dobbiamo prepararci per ciò che ci aspetta lunedì, il Belgio. Buonasera, Didier, France Info, Michael Hollise, giocava la sua prima partita con la nazionale francese, cosa ha pensato della sua prestazione? Non è mai facile, semplice, iniziare e voler partecipare e esserci e Michael ha fatto belle cose con la palla, questo è coinciso con i primi 20 minuti, poi è anche un nuovo gruppo per lui questo, ma ha un forte potenziale, dovrà fare, passare per ulteriori tappe in avanti, ma ha un forte potenziale, ripeto, e sarà in grado di offrire soluzioni supplementari. Buonasera, l'equip, lei ha parlato di una squadra che non è riuscita a fare gli sforzi, i controsforzi necessari, allora perché gli italiani invece ci sono riusciti? Beh, perché avevano un blocco basso, poi ci sono due aspetti, uno, eravamo in grado e poi con i nostri attaccanti più alti questo lasciava più spazio, cioè c'è la prima domanda, potevamo farlo, sicuramente non l'abbiamo fatto, comunque non abbastanza, in uno scenario in cui l'Italia ha un blocco basso, è una delle sue qualità e lo ha dimostrato, anche se non sono stati eliminati prematuramente agli europei, ma li abbiamo messi nella loro zona di comfort e poi gli sforzi contro sforzi sono stati più discontinui e quindi più spazi e più sfide individuali nelle quali siamo stati carenti. Buonasera, Le Monde, è la prima volta in 13 riprese a settembre che la Francia perde con lei, questo può cambiare qualcosa per il seguito della stagione, avrà un impatto? Come farà lei per voltare pagina dopo questa sconfitta? Quando perdo con la nazionale francese fa sempre male e mi farà sempre male, ma non so, non guardo le statistiche, siamo comunque a un livello alto, ovviamente non sarò felice oggi, non mi accontenterò di ciò che abbiamo fatto, abbiamo dei compiti a casa da rendere, da consegnare tra tre giorni, le aspettative, le esigenze ci sono, anche se ribadisco, io ho fatto delle scelte e so bene che se avessi pensato solo a me, magari per avere dei punti di riferimento difensivi avrei inserito i quattro giocatori che hanno giocato partite di altissimo livello, ma non vedo, non è questa la mia visione delle cose, forse non aiuta, sicuramente non aiuta, ma bisogna accettarlo in ogni caso e senza cercare scuse e pretesti, è la mia responsabilità, è sempre stata la mia responsabilità e sarà così in futuro, ed è così, ma dico sempre ai giocatori ciò che penso, ciò che vedo, per fare in modo di dirigerci verso il meglio. Buonasera, Richard Nah, sito Africa Foot, una sconfitta dopo tredici riprese, non ha l'impressione lei di essere diventato, diciamo, di aver messo un po' in pericolo forse i giocatori, nel tempo, forse può creare un elettroshock per la prossima partita, perché quando guardiamo la squadra nel primo tempo e nel secondo tempo si ha l'impressione di vedere due cose diverse, Mbappé ad esempio, primo tempo veniva a cercare la palla, nel secondo non faceva più sforzi, lei non pensa che ci sia bisogno di un elettroshock? Allora lei ha fatto la domanda e la risposta nello stesso tempo, quindi non so cosa aggiungere. Le cose sono sempre andate bene, a settembre con la ripresa, le cose questa volta sono andate male, elettroshock, quando lei ha parlato di essere un caporale per la mia squadra, non so cosa vuol dire perché non capisco, poi comunque la mia responsabilità, chi era in panchina, chi è entrato in campo, questo è il gruppo con il quale dovrò preparare la prossima partita, non potrò dire uno o l'altro, insieme oggi non siamo stati all'altezza rispetto a ciò che ha proposto invece in campo l'Italia. Buonasera, RMC Sport, si parla spesso di calendari molticarichi per i giocatori di stanchezza fisica e mentale, ma può essere vero anche per l'allenatore, lei come si sente, come vive le critiche e anche i forfè dei giocatori? Le critiche sono nato ascoltando critiche, ci sono periodi migliori, peggiori e a volte periodi anche eccellenti, ma io sto bene, non stasera ecco, ma faccio del mio meglio, sì è vero ci sono stati giocatori forfè, due in più stasera, non mi lamenterò, Colomani non era disponibile, un altro giocatore era infortunato, sono le mie scelte, i giocatori che io chiamo, ecco, ho fiducia in loro, sulla base di tutto ciò che è successo, l'ho detto e lo ripeto, la condizione dei giocatori non era ottimale, ma malgrado questo, anche senza essere al 100%, bisogna essere in grado di fare di più di quanto non abbiamo fatto stasera. Buonasera, mister. Stasera non abbiamo visto la nazionale francese, ma tanti individui che hanno giocato. Come spiega questa mancanza di aggressività e di tattica, in particolare dopo l'uscita di Griezmann, che era stato molto in difficoltà stasera. Allora, potrete fare le analisi degli individui che hanno fatto la differenza, ma poi si gioca sempre comunque insieme, io non sono qui per additare un giocatore o un altro, abbiamo avuto delle, diciamo, non ce l'abbiamo fatta collettivamente, con carenze individuali, ma ripeto, è la mia responsabilità e non additerò di certo, non l'ho mai fatto, anche se dirò sempre ai giocatori cosa penso di loro collettivamente, anche a livello del singolo, ma sì, siamo stati al di sotto, al di là dei venti minuti iniziali, ma poi siamo stati in deficit sul piano atletico e possiamo aggiungere mancanza di generosità, aggressività, si possono utilizzare tanti termini, ma malgrado tutto questo dico il fatto, dobbiamo fare di più di quanto non abbiamo fatto stasera. Grazie e ci vediamo a Lione domenica.